Bene, oggi voglio presentarvi un software che serve per la navigazione in internet e che quindi può sostituire tranquillamente l'Internet Explorer. Si tratta quindi di un browser web, cioè uno di quei programmi che servono per sfogliare le pagine web, le pagine di internet. Il software si chiama Opera, è un software freeware, quindi gratuito e andiamo a scaricarlo dal suo sito. L'indirizzo è www.opera.com Ora purtroppo scopriremo che si tratta di un sito in inglese, ma questo non è un grosso problema, in quanto noi dal sito di Opera dobbiamo soltanto scaricare il programma che una volta installato sarà in italiano e che quindi non ci creerà alcun problema. Come vedete arrivati sul sito non devo fare niente di particolare, devo solo cliccare qui dove dice Download Opera. Mi verrà visualizzata adesso un'altra pagina, appunto la pagina del download, dove clicco ulteriormente Download Opera, ma solo dopo essermi assicurato di aver selezionato la versione internazionale, cioè la versione multilingua, che conterrà quindi anche la versione italiana del software. Clicco Download, dovrebbe apparire, eccola qui, una finestra di Internet Explorer che mi chiede se voglio eseguire piuttosto che salvare il file. Io lo voglio salvare e sceglierò di salvarlo nella mia pennetta USB, come già è preimpostato in questo caso, ma chiaramente questa non è una scelta obbligata, io potrei tranquillamente scegliere di salvare in D2 punti, piuttosto che in C2 punti, quindi in uno dei miei hard disk. Il fatto di salvare sulla pennetta, quindi su G, può essere utile nel momento in cui io debba poi installare questo programma su più computer, senza quindi doverlo scaricare ogni volta, mi basterà spostare la penna su vari computer. Qui ci sono già degli altri programmi, ma non ci interessa in questo caso, quello che mi interessa particolarmente è il nome del file che stiamo scaricando, che è questo qui, opera962.exe. Cliccherò Salva, e parte lo scaricamento. Lo scaricamento durerà circa un minuto, quindi sarà necessario attendere, e per questo motivo interrompo la registrazione per riprenderla a scaricamento a download completato. Ecco che sta per terminare lo scaricamento, mancano solo pochi secondi, come vedete qui dice 7 secondi, quindi quando questa linea blu sarà arrivata alla fine, saremo pronti per installare il programma. Ecco qui, benissimo, quindi come vedete dice download completato, di conseguenza possiamo chiudere sia questa finestra, che quella dell'Internet Explorer, e andare a cercare il file che abbiamo scaricato. Lo troverò in risorse del computer, e poi all'interno della mia pennetta. In mezzo a tante altre cose, in maniera inequivocabile, spunta appunto la O di opera, la O rossa di opera, e il nome del file che mi ero appuntato prima. Faccio a doppio clic per far partire l'installazione. Si tratterà, come vedrete, di un'installazione guidata, quindi piuttosto semplice, nella quale non dobbiamo fare altro che confermare sempre le domande che ci vengono poste dal software. Innanzitutto ci viene chiesta la lingua, qui come vedete ci sono disponibili un po' tutte le lingue, ma noi chiaramente sceglieremo l'italiano, e quindi do ok. Adesso appare un'altra finestra, eccola, in cui devo semplicemente cliccare su installa, poi accetto per accettare la licenza, senza cambiare, quindi lasciando l'impostazione su installazione standard, cliccherò avanti, ed infine installa. Quindi tutto molto semplice e veloce, dobbiamo solo attendere qualche istante perché l'installazione sia completata. E come vedete, a questo punto l'installazione è finita, Opera è già pronto per essere utilizzato. In questo caso io vado a togliere questa spunta, voi potete anche non farlo, il fatto che sto facendo è per evitare che Opera si apra automaticamente, perché voglio aprirlo io in maniera manuale, in maniera da mostrarvi anche l'icona che si è installata. Quindi clicco su fine, chiudo la mia pennetta USB e trascino nell'area visibile l'icona che abbiamo appena installato, cioè quella di Opera. Come vedete non si è assolutamente disinstallato l'Internet Explorer, i due programmi, pur essendo molto simili ed essendo utilizzati per lo stesso motivo, cioè per navigare su Internet, non vanno in conflitto tra di loro e potete tranquillamente usarli contemporaneamente. Apro Opera con un doppio clic. Ora probabilmente si aprirà una finestra piuttosto grande, quindi dopo averla aperta dovrò ridimensionarla, perché possa essere visibile nella nostra area, vado a fare appunto questa operazione, stringo la finestra e la trascino nell'area registrabile. Nel frattempo si sta caricando la pagina iniziale di Opera, che come vedete è quella proprio del suo portale, ma ora vedremo subito come cambiare questa cosa, cioè come cambiare la pagina che deve aprirsi come pagina iniziale. Intanto noteremo che ci sono alcuni tasti, come il tasto indietro, il tasto avanti, il tasto aggiorna e il tasto pagina iniziale, quello della casetta, che sono molto simili a quelli utilizzati già nell'Internet Explorer. Qui dobbiamo sapere che Opera funziona con la navigazione a schede, che è un sistema piuttosto utilizzato da tutti i browser di nuova generazione, cioè ogni sito che apro aprirà su questa fascia grigia una nuova scheda e quindi potrò visualizzare i vari siti uno per volta, un po' come accade con la barra delle applicazioni di Windows. Adesso chiudo la scheda relativa a questa pagina e quindi mi rimane aperto il programma, ma privo di qualsiasi scheda. Spiegheremo tra un attimo cosa sono questi numeri, che vengono chiamati accesso rapido o anche speed dial in inglese. Intanto andiamo a modificare l'impostazione della pagina iniziale. Lo faccio da Strumenti, Preferenze, mi assicuro di essere sulla scheda Generali e qui dove dice Pagina iniziale cancellerò l'indirizzo del portale di Opera per sostituirlo con un indirizzo a mia scelta. Metterò ad esempio l'indirizzo del mio sito. Benissimo, a questo punto non mi resta che cliccare OK e quando cliccherò la casetta, il tasto della home page, della pagina iniziale, come vedete apparirà sempre il mio sito, il sito di Centro Computer Multiservizi. Bene, notate anche come questo sito si sia aperto in una sua scheda. Io se adesso voglio vedere un altro sito, non sono costretto a cambiare indirizzo. Mi basta cliccare questo più che mi aprirà una nuova scheda e quindi digiterò l'indirizzo del nuovo sito da visualizzare qui dentro. Ad esempio, voglio guardare il Corriere della Sera www.corriere.it e do l'invio. Come vedete, ora si sta aprendo, si sta caricando la pagina del Corriere, ma questo accade in una propria scheda, senza che sparisca la scheda del Centro Computer. Anzi, mi posso posizionare con la freccia su questa scheda e apparirà una piccola finestra in miniatura che mi mostra il sito, come accade anche se mi soffermo sulla scheda del Corriere. Se voglio tornare quindi su Centro Computer, mi basta cliccare qui, così come se clicco Corriere della Sera posso visualizzare anche Corriere della Sera e così posso mostrare tanti siti, ognuno nella propria scheda. Ora, quando clicchiamo il più appunto per aprire una scheda nuova, appare sempre, prima di digitare un indirizzo, questa visualizzazione con i numeri che un po' assomiglia alla tastiera di un telefono. Appunto, per opera, questo è lo Speed Dial, cioè la composizione rapida, proprio come accade sui nostri telefonini, dove premendo un tasto di un numero sulla tastiera possiamo chiamare rapidamente uno dei nostri numeri preferiti, uno dei numeri più chiamati. Alla stessa maniera, qui io posso impostare sul numero 2 cliccando il sito, ad esempio, del Quotidiano Repubblica. Chiaramente sono solo degli esempi. E alla stessa maniera, mentre qui, come vedete, si sta caricando, sul numero 3 potrei impostare il motore di ricerca Yahoo. E cliccare OK. Nel frattempo, vedete, il sito di Repubblica si è caricato, mentre ora sta caricando Yahoo. Ecco, io adesso posso andare tranquillamente su un'altra pagina, quindi qui vado a digitare, ad esempio, l'indirizzo di un altro sito, mettiamo sempre un sito di attualità, così, giusto per, si sta per visualizzare il sito di Ansa, intanto ho tre schede, quindi, per esempio, qui mi fa vedere la miniatura di Centro Computer, di Corriere della Sera, e poi il sito attuale, Ansa.it, li posso sempre visualizzare singolarmente con dei semplici clic. Nel momento in cui volessi visitare il sito della Repubblica, sapendo di averlo nello speed dial, mi basta cliccare il più, e invece che digitarne l'indirizzo, mi basta cliccare sullarepubblica.it e in una quarta scheda si apre il sito della Repubblica. Guardate come sia poi così adesso semplicissimo navigare su più siti contemporaneamente grazie ad Opera. Un'altra cosa interessantissima è la presenza della ricerca di Google già all'interno della barra e poi sempre nello speed dial la ricerca in base ad altri motori. Quindi adesso chiudo un po' di finestre perché ne ho troppe, chiudo il Corriere della Sera e chiudo Ansa, poi clicco il più per aprire una nuova scheda e come vedete oltre alla possibilità di scegliere i numeri dei siti preimpostati posso qui sopra fare una ricerca in questo caso con il motore di ricerca Ask che è preimpostato in Opera. Ma io lo voglio cambiare, ad esempio visto che sto già utilizzando Google come motore di ricerca predefinito sulla barra degli strumenti, potrei impostare Yahoo che è il secondo motore di ricerca più utilizzato al mondo come ricerca all'interno dello speed dial. E quindi mi basta andare su strumenti, preferenze, cliccando Pagine Web, ah no scusatemi, cliccando Ricerche, mi sono sbagliato, e selezionando Yahoo posso da modifica, ecco quindi ho selezionato, qui c'è un elenco di motori di ricerca predefiniti, se ne voglio aggiungere altri, ad esempio l'Italiano Virgilio oppure Alta Vista potrei fare Aggiungi ed aggiungere un altro motore di ricerca a questa lista senza problemi, però ecco, limitandoci a quelli già presenti basta selezionare Yahoo, cliccare Modifica e da Dettagli scegliere questa opzione Usa come motore di ricerca per accesso rapido, d'ora in poi clicco OK, clicco ancora OK e come vedete non c'è più Ask come motore di ricerca per l'accesso rapido bensì Yahoo, quindi io adesso a portata di mano senza digitarne l'indirizzo sia il mio motore di ricerca Yahoo che quello Google che sono i due motori di ricerca più utilizzati al mondo e così ce li ho entrambi a portata di mano. Ma in realtà la cosa non finisce qui, ad esempio io posso, tornando su strumenti, preferenze, notare come ogni motore di questi abbia una sua chiave di ricerca, quindi in realtà quando voglio fare una ricerca su Yahoo, per esempio, non ho necessità di aprire una nuova scheda, ma posso farlo direttamente usando questa chiave Y nel caso di Yahoo, come potrebbe essere invece W nel caso di Wikipedia e così via. Quindi qui clicco annulla, chiudo questa scheda e per esempio, mentre sto navigando qui in repubblica.it mi viene in mente di fare una ricerca su internet, su motore di ricerca Yahoo circa la parola giustizia. Quindi che cosa faccio? Clicco qui, come se dovessi scrivere un indirizzo, mi ricordo che la chiave di ricerca che ho letto poco fa per il motore di ricerca Yahoo è la Y, quindi scrivo Y, do uno spazio, vedete che qui è già uscito scritto cerca con Yahoo, cioè ha già capito Opera che cosa volessi fare, e scrivo giustizia. Dando l'invio, automaticamente Opera, senza che io abbia prima digitato l'indirizzo del motore di ricerca, mi va a cercare giustizia su Yahoo. E lo stesso potrei fare con Google, quindi qui scrivendo G che era la chiave di ricerca per Google e poi giustizia, mi farà la ricerca della parola giustizia su Google e così ancora potrei farlo su Ask, la chiave di ricerca era A, A e quindi scrivo giustizia, quindi prima la lettera della chiave di ricerca seguita da uno spazio e poi la parola che voglio cercare e velocemente posso fare una ricerca su molti motori di ricerca. Quindi vi ho mostrato una piccola selezione dei comandi più utilizzati in Opera, però poi in realtà ci sono anche molte altre cose da vedere, quindi come per esempio la possibilità di utilizzare la propria posta elettronica con Opera, piuttosto che con altri programmi di posta, comunque sia, magari i più esperti si cimenteranno nell'utilizzare, ma poi questo è un programma che si riesce a scoprire man mano che lo si utilizza. Vi consiglio quindi di scaricarlo e di installarlo anche perché si può installare insieme ad Internet Explorer senza che si creino problemi.